Benvenuti! Questa esercitazione offre una panoramica delle funzionalità di Axis Camera Companion. Per iniziare, fare doppio clic sull'icona del programma. Accedere usando la password scelta quando è stato creato il vostro sito. Sono disponibili tre diverse visualizzazioni, visualizzazione in diretta, registrazioni e configurazione. Iniziamo con la visualizzazione in diretta. In questa modalità è possibile visualizzare il video in diretta dalle telecamere. È possibile cambiare telecamera facendo clic sulle miniature o sulle frecce. È inoltre possibile una visualizzazione multipla in cui possono essere osservate contemporaneamente fino a 16 telecamere. L'icona della telecamera offre la possibilità di acquisire delle istantanee. Tutte le azioni possono inoltre essere avviate tramite il menu contestuale che appare facendo clic con il pulsante destro del mouse. Ed ora passiamo a registrazioni. Qui vengono visualizzate le registrazioni presenti nelle schede di memoria SD. Le linee temporali, una per ogni telecamera, permettono di capire facilmente l'orario in cui una registrazione ha avuto luogo. Ogni registrazione attivata da un movimento viene indicata in rosso. Le registrazioni continue vengono contrassegnate in blu. Utilizzare il calendario per cambiare giorno. Utilizzare la barra dello zoom o il menu contestuale per impostare le dimensioni dell'immagine. Per riprodurre, selezionare una registrazione e premere il pulsante play. La velocità a cui il video viene riprodotto può essere modificata usando il cursore. In una registrazione è possibile accedere facilmente a intervalli di 5 secondi o passare da una registrazione all'altra. Una navigazione più dettagliata è disponibile in modalità Investigazione. Utilizzare le miniature per passare da un fotogramma a un altro. In questo modo è facile identificare un evento specifico. Per memorizzare una parte specifica della registrazione, fare clic sull'icona Salva. Spostare i contrassegni per selezionare la parte che interessa e fare clic sul tasto Salva. Il software Axis File Player viene memorizzato insieme al filmato. Questo software può essere utilizzato per visualizzare il filmato su qualsiasi PC Windows senza dover installare alcun programma. Nella schermata Configurazione è possibile aggiungere o rimuovere telecamere o modificare i nomi delle telecamere esistenti. È inoltre possibile modificare le impostazioni di registrazione e memorizzazione. Fare clic su Sito per modificare il nome del sito o per modificare la password del sito. Il vostro sito può essere salvato su un file, consentendo così l'importazione su un altro computer sulla vostra rete LAN. Se volete poter accedere alle vostre telecamere in remoto, per esempio da uno smartphone, è necessario che sia abilitato l'accesso a Internet. Axis Camera Companion tenterà automaticamente di consentire l'accesso tramite Internet alle telecamere selezionate, ma potrebbe essere necessaria la configurazione manuale di un router. Sotto Personalizza è possibile regolare le impostazioni per migliorare le prestazioni. Questo completa la nostra esercitazione video. Per maggiori informazioni sulle varie funzioni che offre Axis Camera Companion, fare clic sul punto interrogativo nell'angolo in alto a destra per visualizzare i file della guida. Grazie!